Momento di commozione in diretta per Antonella Clary. Durante la puntata odierna di L'è sempre mezzogiorno, la presentatrice ha voluto condividere con il numeroso pubblico che la segue ogni mattina su Rai 1 un ricordo legato alla sua famiglia. Come nel suo stile, il momento è stato assolutamente spontaneo. Antonella Clary ci è tornata in onda da qualche giorno con L'è sempre mezzogiorno dopo un'estate particolarmente difficile. Come sanno bene i suoi fan, la presentatrice ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico non programmato, seguito da una lunga convalescenza. Nonostante ciò, Antonella è riuscita a rimettersi in tempo per il ritorno del programma culinario. Oggi, durante la trasmissione, si è aperta al pubblico con un toccante ricordo del suo passato. Come riportato anche dalla nostra tv, nell'ultima puntata di L'è sempre mezzogiorno, Antonella Clary ci ha ricordato sua mamma Franca, scomparsa quasi trenta anni fa. L'occasione si è presentata in maniera del tutto casuale, grazie a una spettatrice che aveva chiamato in diretta per partecipare al gioco telefonico del programma. Non appena si è presentata con nome e cognome, Antonella l'ha interrotta con un sorriso commosso, Franca. Ti chiami come la mia mamma. Non è la prima volta che Antonella parla pubblicamente di sua madre. La donna è scomparsa molto giovane, il 17 luglio 1995, a causa di una brutta malattia. Antonella ha parlato della morte della mamma in un'intervista a Oggi dopo l'intervento chirurgico di questa estate. Io sono molto legata a mia sorella Cristina e per lei è stato uno shock. Nostra madre Franca è morta in tre mesi a causa di un melanoma, quando aveva soltanto 55 anni. La mamma di Antonella faceva la casalinga, ma spesso aiutava il papà di Antonella, Gian Piero, nella sua attività di caseificio. In una precedente intervista rilasciata a DiPiù, Antonella Clerici non ha nascosto il profondo dolore provato per la sua scomparsa, successe tutto all'improvviso. Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere, perché aveva 55 anni e tanti progetti all'orizzonte. Infine, Antonella ha concluso il suo racconto con queste parole, la riempivo di abbracci e baci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena e vivere quegli istanti come se fossero eterni.